Nel 1989 presi avvio il primo anno accademico di scienze ambientali presso l'Aula Magna della Casa Amata e da questo luogo il 13 novembre prossimo prenderà la parola esattamente nel trentennale dal primo insediamento dell'Ateneo Bolognese a Ravenna l'ospite Francesca San Giorgi, ex studentessa della prima corte ad indirizzo marino nell'anno accademico 1989-90. Nel campus di Ravenna sono oggi aperti 17 corsi di studio per quasi 3.500 studenti, di cui circa il 70% fuori sede. Il 15 novembre sarà poi la volta della cerimonia per celebrare anche il 932esimo anno accademico dell'Università di Bologna, contemporaneamente nei campus di Cesena, Forlì, Ravenna. Trent'anni di Università Ravenna, come avverrà la cerimonia? La cerimonia dell'inaugurazione dell'anno accademico è la cerimonia culminante di una settimana o qualche cosa in più però di altri eventi a cui noi teniamo molto perché sono rappresentativi delle attività che noi svolgiamo sia come didattica che come ricerca in città. Comunque appunto nello specifico la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico avviene secondo un protocollo che appunto è antico, diciamo così, in cui ci sarà la sfilata dei docenti in toga con i colori delle aree disciplinari, poi saremo al centro congressi, ci accomoderemo, assisteremo a un intervento del rettore attraverso un servizio streaming e poi la cerimonia proseguirà a livello locale con un benvenuto, un saluto da parte della Presidente di Campus, in questo caso appunto io personalmente, seguirà poi un breve intervento di una rappresentanza degli alumni, cioè una rappresentanza di studenti del passato e in questo caso appunto sarà un intervento di Francesca Sangiorgi che è una studentessa della prima corte di scienze ambientali che adesso è professora all'Università di Utrecht in Olanda e successivamente avremo l'ospite, l'ospite che nel caso appunto specifico è Antonio Forcellino che è una giornalista, una persona che comunque è conosciuta nel grande pubblico attraverso la televisione ma lui non è tanto un giornalista quanto un divulgatore di materie che riguardano appunto i beni culturali e infatti il suo intervento sarà sul restauro e quindi diciamo queste due figure incarano quelle che sono gli esordi dell'Università di Bologna a Ravenna, proprio le scienze ambientali e i beni culturali. Questo appunto per quanto riguarda l'evento del 15 novembre a cui tutta la cittadinanza è invitata e avremo piacere di averla al centro congressi. Questi 30 anni come si sono sviluppati, cosa è cambiato nel tempo? È cambiato molto nei 30 anni perché dal primo insediamento appunto relativo alle scienze ambientali in 1989, poi qualche anno dopo venne aperta la facoltà di conservazione e il dipartimento, la facoltà di beni culturali e il dipartimento di conservazione dei beni culturali che è ancora, è tuttora insediato a Ravenna e ha dato un grandissimo impulso a questi studi appunto sulla conservazione dei beni culturali e successivamente si sono inserite in questo percorso le altre discipline. Quindi oggi noi abbiamo a Ravenna insediamenti di vari dipartimenti che vanno oltre il dipartimento di scienze biologiche e geologiche ambientali e il dipartimento di beni culturali, ma coinvolgono appunto l'ingegneria e architettura, l'archeologia, le scienze giuridiche e poi abbiamo anche insediamenti di altri dipartimenti chimico-industriale e medicina e chirurgia a Faenza. Quindi assolutamente il campus adesso ha una dimensione molto maggiore anche come offerta didattica, da due corsi di laurea iniziali siamo passati a 17 corsi di laurea e molti di questi fra l'altro appunto negli ultimi anni in particolare si stanno specializzando anche su tematiche care al territorio, quindi andiamo dalla logistica portuale all'offshore e in programma qualche altra attività come dicevo cara e addirittura in qualche caso sollecitata dal territorio. Quanto è importante per gli studenti e la cittadinanza questo evento? L'evento di inaugurazione, cioè quello del 15 ma anche tutti gli eventi a contorno, sono importanti perché apriamo davvero le porte alla cittadinanza, gli eventi non saranno eventi estremamente divulgativi, saranno e su tematiche qualunque, sono proprio rispecchiano le tematiche dei nostri insegnamenti, dei nostri dipartimenti e però appunto vogliamo con eventi e con la pubblicizzazione che abbiamo fatto richiamare l'interesse della cittadinanza. L'università negli ultimi anni si è sentita meglio accolta, ovvero meglio inserita nella città, vogliamo mantenere questo percorso e quindi questo è un evento che è la nostra fotografia attuale e vogliamo mostrarla al meglio proprio alla cittadinanza.